Wow! Che mega iper tavolo! Tutto qui! Lo metti e fai i selfie! Qui c'è i miei vecini! Nove anni! Sì, poi... Gli ricordi di fare le amiche, con... Tutto l'anno che a TikTok! Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì, la nostra festeggiata! Dov'è? Eccola! Di Sofì! Papì! E che facciamo di bello oggi, Sofì? Oggi è il compleanno di Sofì e Gabriele! E siamo tornati con un nuovo video vlog a grande richiesta da... Da dove siamo, Sofì? Siamo a Playstar! Siamo i capelli! Siamo qui dai nostri amici del Playstar e festeggeremo con tutti gli amici di Sofì! Ci saranno tante attività, ci sarà il mago, ci sarà la lotta di cuscini, Ci sarà scarta la carta, è vero Sofì? Sì! Io riprenderò tutto, ma c'è una cosa che se vi vuole farvi vedere in anteprima, perché siamo già qua in anticipo aspettando gli amici, vero Sofì? E allora, ovviamente, vi devo far vedere la sala dove mangeremo un sacco di pizza! È qui! È il tavolo con l'allestimento! Sì! È qui di trasformazione! Oh, piano! E non fare danni! Seguitemi nella mia festa a te, ma sto! Sì, ma piano, piano, eh, che io ho la telecamera! Dove, 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 dove? Eccomi! Playstar! Sofì, ti ho perso, Sofì? Dove sei? Dove sei? Ma sempre a fare le verticali! Siamo arrivati! Wow, che mega ipertavolo! Mi troppo qui! Lo metti e fai i selfie! Qui c'è i maniocini! Nove anni! Sì, poi... Gli ritori con le amiche, con un nome delle cose... Tutto loco a TikTok! Poi i piattini, i bicchierini, il lavoro... No, ma questa cosa è, raga, ma veramente, Sofì! Voto, voto! Voto dieci più! Poi abbiamo qui tutti gli altri buffettini... E poi... E poi la parte di Gabriele... Buon compleanno, Gabriele e Sofia! Quindi la festa di Gabriele è a tema! Abbiamo tutta Mignos e tutta le coramelle... I piattini di Mignos... La torta... La torta... La banane... E la banane! I parioli di Mignos... Questo qui, quattro anni di Gabriele... E poi il palloncino di Mignos... E il palloncino anche per Gabriele! E poi c'è il trono! Il trono! Ovviamente lo dividerai con Gabriele... E qua parei tutte le foto con gli amici! Papi! Questa si non suona! Stanno girando gli amici! Stanno arrivando, stanno arrivando! Sì! È bello che chiuda! Ciao! Ci vediamo dopo! Io registrerò tutto! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.